1-1 in questa terza giornata di campionato in Serie C, si sfidano i ragazzi della New Team contro Smith, Huck, Aldo, marziale e di parità. 1-1 tra le due formazioni, era andata in vantaggio il team di Sorrentino, ha col break di Di Marino il tiro, la parata di Greco che si trova però più che altro il pallone addosso. Errore di Di Marino sottoporta, proprio Gianluca Di Marino aveva portato in vantaggio i suoi, De Vincenzo, tiro intercettato, palla che termina fuori, ci sarà la rimessa laterale decretata dall'arbitro Vincenzo Di Gorilla. Sorrentino la mette in mezzo, Di Marino palla, intercettata, occhio al break della New Team, Pafundi, palla allargata sulla corsia di sinistra, arriva la pronta chiusura di Sorrentino ma la laterale è a favore proprio di Faccaldo. La Inos aveva provato ma viene fermato sulla corsia di sinistra, in grande spolvero quest'oggi Barrese, autore di un gol spettacolare, quello del pareggio. E poi ha impegnato anche severamente Pavanini poco prima con un tiro dalla destra. Due belle squadre che sicuramente la classifica momentaneamente non sta premiando, visti i pochi punti raccimolati nelle prime due, Cuomo svirgola questo pallone, si perde fuori, la laterale è a favore della New Team. Va Barrese, la mette dentro, intercetta Ciccioianese e poi Ciro De Vincenzo, la prova morbida, palla che viene intercettata, ancora Ciro, prova ad andare, Chiuro, Punta l'uomo lo supera, ancora De Vincenzo aggredito, allarga per Sorrentino sul mancino. Intercettata la laterale e ancora per la squadra di Faccaldo, messa in mezzo, intercetta però Paffundi che prova a ripartire, con calma Laino, bello il tocco per De Rosa, ancora la palla allargata per Di Tommaso, prova il dai e vai con Laino, palla però che viene intercettata dall'ottimo intervento di Cuomo. Ciro De Vincenzo, attenzione il pallone, intercettato da De Rosa, Pavanini, rischia la papera ma blocca senza problemi poi, Cianese, la gittata lunga di Marino, potrebbe andare, temporeggia un po' troppo, viene fermato così da Di Tommaso, Sorrentino, buono il tocco morbido di Marino, il gol, il gol, il 2-1, che giocata. Bellissima giocata dei Faccaldo, 2-1, il colpo sotto di Sorrentino, pesca Di Marino, tira al volo, palla nel sacco, 2-1, la disperazione di Greco, il portiere della New Team, e interrompiamo qui il nostro collegamento dopo il tiro di De Rosa. Di Marino e Barreso, una partita che non finiva mai, 4-4, Faccaldo contro la New Team, allora Gianluca, voi siete andati prima in vantaggio, poi gli siete stati raggiunti nel finale, quasi si è rischiato di perdere, addirittura, oggettivamente è stata una bella partita, 8 gol in totale, poco è il personale, però purtroppo... Manca la vittoria, il calcio è così, manca la vittoria ancora, ma purtroppo abbiamo giocato male all'inizio, poi alla fine sul finale ci siamo ripresi, ma non è bastato per vincere. Senti, il segreto per quell'Eurogoal, il primo che hai fatto, davvero bellissimo, stoppo di vetto, è un segreto, lo manderiamo così, stoppo di vetto e tiro. Spero che qualcuno l'abbia filmato. Bello, bello, bello quello, vabbè grazie ragazzi, ciao.